Strana però Traversa Perché per il rugby forse se sei qui da 5 anni sei italiano Non serve la cittadinanza credo Esattamente Avanza, avanza Claudio, 5 metri Vai raga, vai strana, vai Vai, gioca, gioca Vai il capo, vai La donna vi è andato dolce Vai, gioca la meta, vai Vai, gioca la meta Vai, gioca la meta Non è velocissimo ma armarlo è un problema Ma viene da uno strappo muscolare o qualcosa del genere Non si sta allenando tantissimo con noi Cioè è sempre presente ma penso sia per quello Bravo Carlo Bravo Carlo Bravo Carlo E ora se la batte comoda Oh tipo Bravo Carlo Grande Gege Ti ricordavi Carlo Spencer Non la vedi Diego